40 mesi di assolvi e 12esimi di gioco e non è che sono andati in piano, anzi, per niente, il cave e tre cani. Eccoli qua, con l'episodio della primata racing e sebracchi, è stato formidabile, voi non siete stati da meno, avete tenuto un ritmo elevatissimo. Cabe di niente, noi siamo qua, vediamo come va, dobbiamo portare a casa dei punti per il CRZ. Destra 5, chiude 4 in, retorna, altra sinistra, apre. 80. sinistra 6, 50, destra 6, sinistra 2. Ok, super! Sì! Due! E' 100 spine!